Allora, i libri, gli spettacoli, i dipinti che sono stati l'acqua nella quale mi sono bagnato fino ad oggi iniziano con un libro di viaggio che è un po' l'archetipo, secondo me, della nostra civiltà occidentale ed è l'Odissea. Io da piccino ovviamente ho letto una versione per bambini, poi soltanto più avanti ho letto l'Odissea, una versione completa, però questa idea del viaggio è secondo me una delle cose più importanti che la nostra cultura ha prodotto. Dopo il viaggio c'è il sogno e un libro che per me è stato molto importante è stato Don Quixote, che mi è stato letto in un momento particolare della mia vita quando ero ammalato, mio padre me lo leggeva a puntate e è un libro che mi ha insegnato l'idea che non esiste una sola verità e che se io sogno una cosa forse questa cosa qui può anche esistere. Poi c'è un quadro, un dipinto che per me è stato molto importante, essendo fiorentino, i miei genitori mi portavano spesso agli uffizi e quindi la mia cultura visiva si è sicuramente formata in questo luogo straordinario ed è la nascita di Venere di Botticelli, un dipinto che per me ha significato tantissimo da piccolino anche perché non avevo mai visto prima una donna senza vestiti e quella donna ha costituito per me una sorta di archetipo della bellezza femminile. Mi sono accolto che io ho cercato poi quel tipo di donna perché per me quella era la bellezza. Poi ci sono dei film, chiaramente i film sarebbero tanti da elencare, ma un film che mi ha particolarmente segnato è Casanova di Fellini, un film che ovviamente non ha nulla a che fare era la vicenda di Casanova, ma che è un discorso molto profondo e molto amaro su una certa mentalità italiana che Fellini in un'intervista tra l'altro ha definito fascista. Casanova è l'archetipo del fascista italico. Poi ovviamente gli autori sono tantissimi da elencare, Shakespeare secondo me è stato uno degli autori che per me sono stati più importanti, come studente di filosofia i dialoghi Platone, sono stati la lettura forse che più mi ha formato. Poi a un certo punto io sono entrato in contatto con la cultura polacca e Gombrowicz è stato un autore, Ferdi Durk e Cosmo, sono stati i libri che mi hanno appassionato e mi hanno convinto, avevo fatto una buona scelta e anche le botteghe color cannella di Bruno Schulz. Poi c'è stato Beckett, c'è stata tutta la letteratura dell'Ottocento intorno al tema del sogno di nuovo, del tradimento, Anna Karenina di Talstoi e Febrist di Fontane, Madame Bovary di Flaubert. Un poeta italiano che mi ha molto segnato è stato Saba, il canzoniere che ho letto quando ero all'università, ma vorrei finire forse con un dipinto, un altro dipinto che per me rappresenta un po' la sintesi della nostra idea della fine ed è questo black and grey del pittore americano di origine ebraica Mark Rothko. Questa tela divisa in due parti con questo grigio, questa luce grigia che finisce in una sorta di linea d'orizzonte e trascima in un nero che più nero non si può, mi sembra la sintesi perfetta di un'idea della fine della nostra vita, che però non è tragica, non la sento triste, non la sento drammatica, la sento molto pacificata e trovo che non è un caso che questo che è l'ultimo dipinto di Rothko prima di togliersi la vita fosse stato concepito per un luogo di meditazione interreligiosa, cioè un luogo senza simboli religiosi dove chiunque poteva andare e pregare, concentrarsi, rivolgersi al suo Dio. Ecco questo pannello grigio e nero mi sembra perfetto. Grazie. 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 Grazie.